Ciao a tutti, se siete guardate probabilmente siete un fan di sega angolo che vuole difendere la sua console e voglio dire di stoppare ora e prendere una scuola per un minuto voglio lasciarvi sapere che non amo sega non amo sega e amo molti gli ultimi giochi ma credo che una nuova console di sega sarebbe un grande problema per sega perché creare una console è molto più caro che probabilmente pensi se vuoi un Dreamcast True sega rende molti soldi con 3rd party games come Sonic, All Stars, Racing, Transformers e cose così e sega va molto bene in questo modo ovviamente una nuova console di sega sarebbe una cosa davvero buona se lo fareanno come il primo Dreamcast che non era così grande la mia opinione è che il primo Dreamcast era una console decente ma si fa in marketing e tutto perché che punto di vendere come console 2 anni prima della prossima generazione ovviamente la tua console va a morire velocemente voglio dire, è qualcosa di obbligo non so perché sega ha fatto qualcosa così male nel livello marketing comunque il primo Dreamcast era una macchina molto buona emulazione la macchina ha abbastanza buona game ma ora ora il Dreamcast è un piaccio di plastica ora ora, voglio dire, nel 2013 il Dreamcast è assolutamente utile perché la maggior parte delle game di Dreamcast puoi spiegare facilmente anche su un PC molto forte e se vuoi una buona macchina per emulazione retro gaming e cose così puoi prendere, non lo so un PSP sai che Sony ha gestito la portazione di PlayStation è una macchina perfetta per emulazione io la spiego quasi perfettamente ogni game di PlayStation 1 e poi ho emulato anche cose come come, sai SNES Genesis NES Gameboy Advance e cose, voglio dire buone console e è un'ottima macchina emulazione e, sai, è anche portabile quindi non capisco perché dovresti comprare un Dreamcast ora o anche se vuoi emulare qualcosa anche in HD sulle tv solo compri un Ouya non sono assolutamente un fan dell'Ouya l'idea è abbastanza buona ma l'idea è abbastanza buona ma l'idea è abbastanza buona con Google Play ma in realtà l'Ouya se vuoi per emulare cose è abbastanza buona console può emulare anche PSP se lo ricordo corretto prima di tutto il nome Dreamcast 2 è direi sarebbe un'ottima marketing perché so che il primo Dreamcast ora ha un buon numero di fanci perché il tempo ha passato il Dreamcast è scoperto grazie a molti persone potrebbero giocare grazie a emulazione e quindi ho capito che si può prendere non so il love un nuovo console un nuovo console con molti fanci ma se anche Nintendo non può prendere mercato in questa generazione non può quindi la Wii U è stupendo male e Nintendo è già pensando sulle console come pensi che sega può vendere le vendite actual Wii U che è una console Nintendo è ovviamente nintendo ha una fanbase che sega è ovvio ovviamente non sono fan nintendo ma capisco quindi creare una console per sega sarà una idea molto perché adesso la playstation 4 è dominare il mercato tutti hanno una playstation 4 quasi perché è davvero carico è potente e avrà molti giocati infemus second son rime shadow of the beast molti nuove ip non infemus second son ma rime shadow of the colossus sì quindi quel punto sarebbe per sega andare nel mercato con un nome che nessuno conosce e se vuoi un nuovo game da sega spero che lo rendano multiplatforma come lo fareanno adesso con Sony o altre cose nuove ip cose così se vuoi non 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 sai la sega fare tutto scelta attore che sia interessato in fare un 頻道 che vorrei sperare di che dire mettiamoci un nuovo console e la nostra esclusiva sarà un nuovo game Sonic, perché sega è Sonic e Shem No 3, ovviamente, molte persone potranno comprare questo, ma non è sufficiente spero che sega crea un game per ogni platform, come sempre e questo è tutto, Shem No 3 per la playstation 4, Xbox One e cose così e dopo tutto penso, nella mia opinione, che se vuoi, non lo so, probabilmente sei un fan di sega, se vuoi che sega sarà successo nel futuro, ma anche ora, non scrivete a tutti gli occhi, voglio un nuovo Dreamcast perché, sai, il primo Dreamcast era bello, quindi sega viene tornato con un nuovo console perché sarebbe stato horribile per sega, per il loro pochettino, loro perdono molto di soldi, una nuova console di sega, non venderebbe assolutamente, se una console, in questa generazione, ma probabilmente in futuro, avrà usato e non avrà un playstation, Xbox o Wii U scritto sulla nintendo, nessuno va a comprare questo e è abbastanza ovvio, non so perché le persone apriranno un nuovo DREAMCAST, un nuovo DREAMCAST non va a vendere bene e probabilmente mettere due o tre escusi, vabbè, Toy Jam Adele magari, Sonic ovviamente e Shame New 3 magari, e poi stop it, sarebbe una idea stupida da Sega, seriosamente, spero che avete capito il mio punto e vedete in prossimo video